Voltiamo pagina e passiamo proprio a tutto quello che può essere utile, quelle iniziative che possono essere utili per fare della prevenzione uno stile di vita. Fujifilm ha deciso di lanciare un'innovativa campagna di sensibilizzazione che vuole creare un legame molto originale tra la moda e la prevenzione. Bene, allora io vorrei lanciare questo video e poi entriamo nel vivo, tra un attimo arriva anche, lo facciamo arrivare subito il manichino, si chiama, eccolo qui, ha indosso la Smart Shirt Fit Therapy, vediamo chi è più alto, vince lui, non ci voleva molto ma insomma eccoci qua, benvenuto. Allora ci guardiamo il video insieme, grazie presidente, ci guardiamo il video insieme ed entriamo nella campagna. Grazie. 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 Allora, bellissimo. Stavo guardando la t-shirt, adesso ce la faremo raccontare, ma sul manichino ci sono le frasi che le persone che passavano hanno scritto e che rappresentano il loro concetto di prevenzione, cioè la domanda era che cosa rappresenta per te la prevenzione, viviamo con la prevenzione, vestiamoci di prevenzione, prevenire è meglio che curare, e ieri, oggi, domani, prevenzione, sì, grazie, insomma tutte frasi che vanno a testimoniare quello che è il sentimento della prevenzione per ognuno. No, e come lo chiamiamo? Giordana. La chiamiamo Giordana. No, questo stiamo scherzando. Allora vorrei invitare con noi per parlare di questo progetto Valeria Mangani, giusto l'accento? Presidente di Sustainable Innovation Fashion Society. Benvenuta, benvenute e si accomodi con noi. Allora, la sua società, dopo aver consultato i propri brand sostenibili ed innovativi, ha scelto la maglia Fit Therapy, che è questa, realizzata in tessuto altamente traspirante e microforato. All'interno della stampa grafica c'è una speciale composizione di minerali, biossido di titanio, in grado di riflettere la parte più lontana degli infrarossi, tra i 4 e i 21 micron, solitamente chiamata FIR, FAR Infrared. Allora, prima di arrivare a lei, che così ce la racconta ancora meglio, ritorno dal dottor Campari. Può esserci un legame tra prevenzione e moda? Poi la chiedo, la stessa domanda anche a lei. Allora, direi proprio di sì. Noi l'abbiamo voluta leggere in quest'ottica, no? Quando parliamo di prevenzione, allora sicuramente la prevenzione significa aderire allo screening, il sangue occulto, fare le colonoscopie e così via, ma molti di voi lo hanno ricordato prima, prevenzione significa anche adottare uno stile di vita adeguato, l'alimentazione, lo sport, tutte queste cose. E quindi noi abbiamo proprio voluto creare questo collegamento legato allo stile di vita. La gente, le persone, tutti noi siamo molto attenti al nostro stile, no? Il stile è anche come ci vestiamo, no? L'attenzione alla moda. Ebbene, la stessa attenzione deve essere sempre di più riportata anche allo stile di vita dal punto di vista di quelli che sono le buone abitudini in tema di prevenzione. Quindi questo è stato proprio il legame che abbiamo voluto creare con questa associazione legata alla moda. Bello, molto molto interessante. Allora, vengo da lei, dottoressa. Parliamo quindi di scienza e moda. Le chiedo, come e quando si incontrano? Qui oggi, per esempio, qui è dove la scienza incontra la moda. Noi oggi stiamo presentando una smart shirt, perché sono intelligenti, queste non sono banali t-shirt, ma sono state ingegnerizzate. ingegnerizzate per rispondere a dei parametri che vengano in aiuto alla salute. Perciò assolutamente dove la scienza incontra la moda. E come può la moda, una cosa così futile, frivola, essere in sussidiaria alla salute? Ebbene, voi dovete pensare semplicemente che ogni mattina, quando vi vestite, compite un atto politico. Voi sapete chi ha tinto la cravatta che state indossando, o chi ha cucito la maglietta che state indossando. Magari un bambino, a Rana Plaza, in Bangladesh, dove ti ricordi il crollo, esce una cosa tremenda, fu 113 persone e persero la vita. Ebbene, è anche un atteggiamento sociale la moda. Quello che voi indossate si ripercuote su tutta la filiera produttiva, fino a chi l'ha prodotto è tessuto o tinto. Ecco, le tinture, per esempio, sono una grandissima parte di questo calderone della salute che la moda può causare o può inibire. Le tinture sono qualcosa di molto tossico talvolta. Si dava sempre la colpa nella moda sostenibile ai conciari, le concerie. Ebbene, è stato trovato che ora loro non usano più il cadmio, il piombo, il cromo, tutte metalli pesanti che erano altamente nocivi, non solo per tutta la flora e la fauna dei corsi d'acqua, ma anche per la nostra pelle. Perché ricordiamoci che la pelle è il nostro organo più grande e il più esteso. Noi attraverso, indossando, diciamo, attraverso la traspirazione abbiamo, diciamo, assorbiamo tutto ciò di cui la nostra maglietta è stata tinta. E noi abbiamo un evento annuale che si chiama FIGITAL Sostenibility Expo dove vengono proprio pensato per tutte le aziende sostenibili, non solo della moda, ma vengono a presentare tutte le loro innovazioni e disruption della filiera. Ecco, e lì per esempio una grande multinazionale che si chiama Albini, insomma del nord Italia, ha presentato l'anno scorso le prime tinture a base di microbi. Perciò il futuro sarà a base molto organica, molto biologica. Ecco che staremo, lasceremo sempre di più tutte le cose chimiche e nocive per la salute. Perciò assolutamente la moda è una scelta inconsapevole che in realtà ha grande consapevolezza dietro di sé. E questa cosa la dobbiamo dire alle persone che magari non hanno contezza di questo, dobbiamo istruirli su questo aspetto. Ci spiega, io l'ho accennato ma ho capito molto poco di quello che ho detto, ci può parlare della tecnologia che c'è dietro questa t-shirt? Dunque, in trasparenza, se si vede, non so se la può prendere, penso che la possa togliere dal manichino. Abbiamo, eccola, la nostra valletta, abbiamo anche la valletta! Giordana, questo è il dietro. Sì, metta una mano dentro. Ok, si vedono dei pallini, ok? Perfetto, quei pallini sono dei minerali che hanno il potere di assorbire la temperatura corporea e rilasciarla poi successivamente gradualmente. hanno anche il potere, attraverso questo fear, questo infrared che abbiamo detto prima, di riuscire a dilazionarlo nel tempo. Perciò cosa vuol dire? Che fanno uno storing di questa energia, si parla anche di, diciamo, un po' molecole energetiche, e perciò si rilasciano poi successivamente. Questo decontrattura la muscolatura, diminuisce l'acido lattico e ha tutte delle, diciamo, veramente dei virtuosismi che sono incredibili, sembra una semplice maglietta, ma in realtà può avere veramente degli scopi terapeutici. noi l'abbiamo fatta provare a tantissime persone, insomma, la vendono in farmacia, le dico solo quello. Ah, la vendono in farmacia, perfetto. Assolutamente, si è venduta in farmacia, è un presidio paramedico ed è molto buona per quando avete contratture alla schiena, perché tutti questi pallini sono messi specialmente sulla schiena. Dobbiamo trovare i modi per dire alle persone che si può fare prevenzione anche attraverso la moda. Che modi potremmo immaginare? Perché dobbiamo uscire dalla nicchia e cominciare a lanciarlo, questo messaggio. Questo è un momento e dobbiamo trovarne degli altri. Allora, la nostra associazione, che ad oggi è la più grande community europea di moda e design ecosostenibile, abbiamo 2.300 aziende associate, sono sia brand che manifatturieri, sono per l'80% italiani, 20% internazionali. Ecco, tenete presente che noi con loro facciamo un grandissimo lavoro di consapevolizzazione, abbiamo fatto mozioni parlamentari per la moda sostenibile e abbiamo chiesto ai legislatori proprio a livello di lobbying fare delle cose concrete. Allora, queste cose concrete sono sicuramente, partono tutte come tutte le rivoluzioni sempre dal basso, come all'epoca della rivoluzione francese, ma è pressa proprio nei consumatori. Perciò, quello che insomma una volta era il popolo, oggi per noi sono i consumatori. La mission dell'associazione è consapevolizzare i consumatori all'acquisto. Cosa vuol dire? Ogni volta che andate al supermercato mettete la salute della propria famiglia nel carrello del supermercato, leggete le etichette, guardate se ci sono coloranti, conservanti, OGM, ora sono tutti celiaci, hanno tutti i problemi, e perciò leggete, lo so che leggete. Ebbene, altrettanto dovete fare quando comprate dei vestiti, dovete leggere le etichette. Nessuno sa leggere le etichette dei vestiti, eppure dicono tutto, tutto. Quei piccoli, sono scritte piccole apposta, proprio per non creare tanta consapevolezza, e noi infatti tra i nostri disegni di legge c'è proprio quello della consapevolizzazione, di cambiare le etichette, mettere dei codici QR, così col telefonino possono sapere tutto, mappare tutto. Perciò è molto importante saper leggere le etichette, tutto quello che indossate, sicuramente tutto, diciamo, l'80% di ciò che indossate è fatto di plastica, perché devi sapere che PU, PA, vuol dire polietilene. È tutto plastica, è poliuretano, polietilene, e perciò è tutta plastica. Grazie, saremo molto più attenti, la ringrazio moltissimo, dottoressa. In questi 30 secondi chiede al dottor Campari di tirare una linea, cosa ci portiamo a casa questa sera, così poi ci liberiamo tutti quanti, e cosa ci portiamo a casa, il key message finale. Beh, allora, intanto io ringrazio veramente tutti voi che avete partecipato a questa giornata di lavoro, come ha detto giustamente Giordano, e credo che abbiamo veramente posto un altro piccolo tassello su questo percorso della prevenzione. C'è tanto da fare, per oggi abbiamo sentito testimonianze, interventi importanti da parte di tutti, con diverse sfaccettature. Permettimi solo di ricordare in tema di avvicinamento della prevenzione alle persone, con Giordano da tempo stiamo parlando di un progetto che non svelerò qui, ovviamente. Non spoileriamo. Però questa giornata mi ha rafforzato e convinto nell'idea di continuare a lavorare su questo progetto, che è un progetto anche in questo caso volto a cercare di portare la prevenzione ancora più vicino alle persone, perché poi sono gli aspetti spesso pratici che sono quelli che bloccano magari anche queste politiche di prevenzione. Trasformarla è una cosa bella, non di cui avere paura. Assolutamente. È un tema culturale, bisogna parlarne tutti i giorni come si parla della partita del giorno prima al caffè. Quindi spero che questa giornata abbia contribuito ad aiutare ad andare verso questa direzione. Ne sono sicura. Ringrazio moltissimo tutti voi che siete intervenuti per l'attenzione che ci avete riservato. Grazie tantissimo. Grazie.